Un presidio di protesta si è tenuto oggi a Palermo in Viale Campania, davanti alla sede dell'assessorato regionale dell'energia, protagonisti sindici e produttori del comprensorio agricolo di Ribera, al centro delle rivendicazioni dei manifestanti e la necessità di nuovi concreti impegni da parte degli enti regionali affinché vengano riservate alcune irrigazioni di emergenza e le coltivazioni servite dalla diga Castello. Ci è stato riferito, ha detto il primo cittadino di Ribera, Matteo Ruvolo, che è stata convocata una nuova riunione da tenersi nelle prossime ore tra i vertici di Dipartimento Acqua e Rifiuti, Autorità di Bacino, Commissario straordinario per l'emergenza idrica, Consorzio di Bonifica Agrigento 3 ed AICA, l'azienda pubblica che gestisce le risorse idriche per usi civici in provincia di Agrigento, per rivedere le attuali assegnazioni dei volumi idrici della diga Castello al momento destinati esclusivamente agli usi potabili. Tre presenti al presidio di erano anche componenti del Comitato che si è recentemente costituito a Ribera insieme per l'acqua. Obiettivo di amministratore ed agricoltore è quello di ottenere il via libera di un certo quantitativo di metri cubi dell'acqua della diga Castello anche per le campagne. Si punta in particolare ad ottenere la disponibilità di almeno 2 milioni di metri cubi di acqua anche se l'obiettivo è quello di averne ancora di più. Ma anche se si raggiungesse questo accordo è necessario prima effettuare la manutenzione degli impianti. A questo proposito il Sindaco di Ribera ha detto di aver appreso che Dipartimento Acqua e Consorzio di Bonifica Agrigento 3 hanno rinnovato la convenzione scaduta da tempo che permetterà adesso al Consorzio stesso di affidare lavori per la riparazione delmeno sei impianti idraulici tuttora guasti e che convogliano l'acqua della diga Castello nelle reti di distribuzione destinate alle campagne.